guarda Marco stai attento perché sei birichino Grazie a tutti Grazie a tutti Bellissimo, in totale sicurezza perché eravamo accompagnati da guide alpine Un giro che consiglio veramente a tutti Ritrovare se stessi significa stare un po' con il ritmo della natura Questa terra è la terra del Muller Turgau Che invito tutti a gustare Con amici, in compagnia o come vogliate voi Buona montagna a tutti Ah, dimenticavo Seconda settimana di settembre Qui a Rifugio Putsmauer Per il Festival della Musica e della Fisarmonica Vi aspettiamo numerosi Salute Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti